ciao a tutti oggi ho pensato di fare il mio primo vlog vediamo come esce se poi lo pubblico e adesso sono qualche aspetto amoroso lorenzo che è andata nei carabinieri e oggi andiamo al lago di lecco e vi porto con noi e vi stavo dicendo che oggi vi portiamo con noi al lago di lecco saluta lorenzo vabbè intento a guidare lui e a guardare il navigatore perché non sappia la strada e niente quando arriviamo al lago vi faccio vedere poi questo aspettate se riesco no non riesco vabbè volevo farvi volevo farvi dire la strada ma non c'è niente da vedere di bello e niente ci vediamo dopo ciao tanto lui canta basta un canti più prosegui dritto navigatore volevo farvi vedere il paesaggio ma adesso vi faccio vedere solo il ponte e l'architettura mi piace così dopo queste bellissime case riesco a farvi vedere qualcosa delle montagne lecchese prosegui dritto poi alla rotonda prendi la seconda uscita in via spluca grazie Siamo arrivati al ristorante all'alba delle due e un quarto e tra un po' vi faccio vedere cosa mangiamo. Questa è la vista dal nostro lago, cioè dal nostro ristorante si vede il lago e le montagne. Questo qua è Lorenzo e adesso attendiamo da mangiare. Finalmente si mangia per me fettuccine salmone, per lui spaghetti alle vongole e patatine fritte. Ci vediamo dopo, buon appetito! Voi in questa domenica cosa fate? In questo sabato scusate. Carnevale a Bellagio, poi vi faccio vedere il lago ragazzi, ma intanto grazie a tutti. 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 un attimino e poi ritorniamo a casina ci sentiamo dopo ecco se vi mancavamo eccoci qui mi sembra un po' un rapper mancato però vi dettagli siamo seduti appunto sulla panchina ci rilassiamo un po' e poi ritorniamo a casa saluta ciao bene ragazzi noi vi salutiamo stiamo tornando a casa saluta lollo ecco sta guidando lui bellaggio bella ve la consiglio c'era anche lui si stava bene faceva caldino e niente noi ci vediamo al prossimo video non so se farò altri vlog vedremo dai ok ciao a tutti ciao